Siamo con mister Mottola, mister, ci hai creduto penso fino alla fine, poi un'ingenuità lì su una punizione, bastava stare per terra, forse stare davanti alla palla e quella azione lì sarebbe sfumata, ci sarebbe stata la vittoria, ho sbaglio? Sì, avevo peccato un po' di inesperienza alla fine, il peccato è che il palito sia avuto in questa maniera perché il palito era il 95esimo, con la prima classifica ci dispiace molto, però a questa sensazione positiva avevamo due giocatori nuovi come Gianni e Turribella e sicuramente serviranno per il possibile campionato. Sicuramente poi alla fine se uno va a valutare tutta la partita il risultato è giusto, però è normale che uno rimane deluso perché con un pizzico di attenzione in più, come hai detto a te, la vittoria non è in tasca. Penso che sia stato più organizzato di noi, quindi se un altro di due squadre va a vincere dovevano essere noi sicuramente, poi anche l'ultimo gol che ha fatto era, oltre che era stato un'esplorola, fatta di base alla punizione, ma era... Sembra che era fuori gioco, poi vedremo stasera. Sicuramente se c'erano le due squadre che dovevano vincere, quindi eravamo noi, peccato, però speriamo di recuperare punti durante il prossimo campionato. Grazie mister. Grazie.